È una misura di sostegno prevista dal decreto aiuti, parliamo del bonus 200 euro in particolare per le categorie relative a colf, badanti e babysitter. È attiva la procedura online con il patronato ACLI che è a disposizione. La specifica in questo caso è che non si attiva automaticamente, quindi va seguito un iter specifico. Esatto, la categoria delle colf, badanti e babysitter, quindi coloro che hanno un contratto di collaborazione e familiare, devono presentare un'apposita domanda. I portali sono aperti da pochissimo, da un paio di settimane. Noi abbiamo già fatto tantissime domande, per cui inviando la domanda telematica all'Inps, loro dovrebbero vedersi erogare questo bonus come gli altri nel mese di agosto e settembre. Questa tipologia di domande ha una scadenza per colf, badanti e il 30 settembre. Le altre categorie soggette a domanda, quindi in cui non ci sarà un accredito automatico come per i pensionati e i dipendenti, la scadenza delle domande invece è il 30 di ottobre, come gli sportivi, i liberi professionisti, i contratti a tempo determinato, gli stagionali, gli agricoli, queste tipologie di lavoratori qua che non hanno l'accredito diretto in busta paga. Ricordiamo quali sono i parametri per poter accedere a questo bonus. Allora, per le colf, badanti è un parametro molto semplice, nel senso che devono essere in forza lavoro come collaboratori familiari, alla data del 18 di maggio, semplicemente. Il patronato ACLI è già attivo, chi volesse appunto rivolgersi a questo tipo di servizio come può fare? Allora, noi siamo, i nostri sportelli sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, potete venire presso i nostri uffici, semplicemente muniti di IBAN, qualora ce l'abbiate, e di carta d'identità e noi presenteremo le domande all'Inps in forma gratuita.